Allora ragazzi, perché si usano i cavi in fase di definizione e non i pesi liberi? Molti me l'hanno chiesto, vi dico, si usa il cavo perché il cavo ha un movimento che permette al muscolo di rimanere sempre in tensione. Il fatto che il cavo non abbia punti morti, quindi vi permette, allenandovi con il cavo appunto, di avere il muscolo sempre in tensione e semplicemente metterlo sotto stress di più e fare in modo che il muscolo, soprattutto per definirlo, si definisca di più. Quando voi usate i pesi liberi c'è sempre un punto morto che rende l'esercizio più semplice e meno intenso, ecco perché si usano i cavi in fase di definizione. E ve li consiglio, ve li consiglio su tutti i muscoli, molto molto buoni, sono per le braccia, soprattutto se fate per esempio un bel super set alternate bicipiti e tricipiti, cavi sono l'esercizio e il metodo migliore per definire. Poi quando fate massa tornate a fare i pesi normali. Quindi ciao guaglio, ci vediamo nei prossimi video del vostro Super Corris.